Ciao, io sono Livio, questo video è un'esercitazione pratica nella quale scriverai il tuo primo programma Java. Vedremo come creare un progetto utilizzando l'ambiente di sviluppo Eclipse, che cos'è il metodo main e come stampare una semplice scritta sullo schermo. Scriveremo un programma che stampi a video la scritta Hello World, che significa Ciao Mondo. I passi che dobbiamo fare per risolvere questo esercizio sono i seguenti. In primo luogo, da Eclipse, dobbiamo creare un progetto Java. In seguito creiamo una classe chiamata Hello, scriviamo tutto il codice all'interno della nostra classe e infine avviamo l'esecuzione del codice che abbiamo scritto e osserviamo i risultati. Bene, cominciamo. Come si crea un progetto utilizzando Eclipse? Facciamo semplicemente clic su File, New, Java Project. Apparirà questa finestra. Un progetto ci permette di raccogliere tutti i file che costituiscono il nostro programma. Nel nostro semplice esempio ci sarà un unico file che sarà la nostra classe contenente il codice. Nel nostro progetto dobbiamo specificare in primo luogo il nome del progetto. Possiamo chiamarlo ad esempio Hello come l'esercizio. Possiamo lasciare selezionata la spunta su Use Default Location. Questa indica la directory nel nostro computer nel quale verranno inseriti i file relativi al progetto. Successivamente dobbiamo stabilire quale JRE utilizzare. Questa JRE, questo acronimo, indica Java Rantime Environment ed è l'insieme di software di cui ha bisogno il nostro computer per poter eseguire i programmi Java. Possiamo selezionare la terza spunta e indicare quindi che vogliamo utilizzare l'opzione di default. Project Layout non ci interessa al momento. Possiamo fare direttamente clic su Finish e creare il nostro progetto. Successivamente creiamo la nostra classe. Facciamo clic su File New Class. Nella finestra dobbiamo indicare innanzitutto la directory che contiene la classe e possiamo indicare la directory SRC che indica la parola source ovvero sorgenti ed è la cartella solitamente destinata all'interno di un progetto a contenere tutti i file sorgenti, appunto i file che hanno il codice Java del tuo programma. La classe deve avere un nome e indichiamo la classe come Hello. Tutti gli altri parametri per adesso possiamo non indicarli. Possiamo fare clic su Finish e creare la nostra nuova classe. Eclipse indica queste prime righe di codice che sono Public, Class e Hello. Aperta graffa, chiusa graffa. Una classe, quella che noi abbiamo appena creato, per adesso possiamo vederla come un semplice contenitore di tutto il nostro codice. Generalmente in Java tutte le istruzioni che compongono il programma devono essere inserite all'interno di una classe. Più avanti nel corso vedremo che ci sono delle eccezioni. Alcune istruzioni potranno essere inserite anche prima di dichiarare la classe e in particolar modo nella lezione dedicata alla programmazione oggetti capiremo meglio il significato di classe, ma per adesso è ancora troppo presto. All'interno delle parentesi graffe possiamo indicare il blocco di istruzioni che fanno parte della nostra classe. La parola chiave Public è un modificatore d'accesso. Vedremo successivamente nel corso infatti che un programma può essere costituito da più classi e le diverse classi hanno delle diverse regole di visibilità. Per adesso l'unica cosa che ci interessa capire è che ci può essere soltanto una sola classe Public all'interno di ogni file. Inoltre il nome della classe pubblica, nel nostro caso Hello, deve corrispondere al nome del file. Questa è una regola generale che vale in Java e dobbiamo rispettarla. Però dobbiamo sempre ricordarci che Java è un linguaggio case sensitive. Questo vuol dire che la parola Hello con l'H maiuscola e la parola Hello con l'H minuscola per Java sono due concetti distinti. Quindi se il nostro file si chiama Hello con l'H maiuscola anche la classe dovrà avere esattamente l'indicazione con la prima lettera maiuscola. Oltre delle regole che servono a far funzionare Java, come in tutti i linguaggi di programmazione, esistono anche delle convenzioni. Cioè sono delle regole non scritte, nel senso che volendo tu puoi creare dei programmi che non rispettano queste regole e eseguirli e ottenere con successo i tuoi risultati. Tuttavia le convenzioni sono molto importanti. Infatti la programmazione è un'attività che solitamente si svolge in gruppo o comunque quando si scrive un software qualcuno prima o poi dovrà metterci mano. Quindi se tutti i programmatori adottano le stesse convenzioni allora sarà più semplice per tutti riuscire a capire il codice scritto dagli altri. Ora vediamo la prima convenzione che abbiamo in Java ed è quella di utilizzare la prima lettera maiuscola nel dichiarare il nome di una classe e di un file. Quindi ricordati che anche se puoi scrivere la classe hello con la h minuscola chiamando il file allo stesso modo e il tutto compila ed esegue, in Java come convenzione tutte le classi hanno la prima lettera maiuscola. All'interno della classe potranno esserci varie istruzioni. Per adesso noi ci concentriamo sulle minime istruzioni che servono a far funzionare il programma. L'istruzione di base che vediamo è questa che descrive il metodo main. Questo indicazione public static void main aperta parentesi string parentesi quadre args chiusa parentesi tonda è un qualcosa che visto così la prima volta può sembrare molto complesso. In realtà tutte le parole che compongono questo blocco di codice hanno un preciso significato e man mano che andremo avanti nel corso avremo tutte le basi per poter capire a fondo quali sono le implicazioni di ogni parola. Per adesso ci interessa capire che main è una parola che in inglese significa principale ed è il nome utilizzato in Java ma anche in altri linguaggi come il C o il C++ per indicare il punto di inizio dell'esecuzione del programma. Cioè un programma può essere molto grande può avere milioni di righe di codice quindi quando noi dal sistema operativo scegliamo di avviare il programma il sistema operativo deve capire qual è la prima istruzione da lanciare e cercherà quindi il metodo main che è esattamente quello che noi abbiamo dichiarato in questa maniera qua. E se noi cambiamo qualcuna di queste parole e cerchiamo di togliere public static o void il programma java non funziona quindi quando tenteremo di avviare il programma Eclipse ci dirà non riesco a trovare il metodo main che mi serve per poter eseguire questo programma. Per questo motivo anche se non conosciamo il significato di tutte queste parole chiave che sono indicate siamo costretti a scriverle. Void significa che il metodo main non rende nulla al chiamante. Solitamente nella programmazione infatti un pezzo di codice svolge un calcolo e può eventualmente rendere un valore al software che aveva chiamato questo pezzo di codice. in questo caso la parola chiave void in inglese significa vuoto e indica che il metodo main non rende alcun valore al chiamante quindi qualsiasi cosa agendiamo facciamo all'interno del programma il sistema operativo non è mai interessato a ricevere questo risultato e farci qualcosa. Public è la stessa parola che abbiamo visto anche per la classe capiremo meglio quando studieremo i modificatori d'accesso quale sono le sue implicazioni e static ugualmente per adesso è una parola che ancora non conosciamo ma dobbiamo indicare. Le parentesi tonde indicano che il metodo main può accettare dei parametri in ingresso quindi questo significa che quando noi lanciamo il programma possiamo specificare degli argomenti che poi il nostro programma utilizzerà in qualche modo e questi argomenti vengono passati alla variabile che si chiama args che è semplicemente di tipo stringa cioè è una sequenza di caratteri che raccoglie una o più parole che noi specifichiamo all'avvio del programma ed eventualmente possiamo utilizzare anche se il nostro semplice programma non utilizza alcun valore in ingresso dobbiamo comunque indicare la scritta string args. All'interno del metodo main infine vediamo l'istruzione che viene utilizzata per effettuare la stampa. L'istruzione system.out.println effettua una stampa a video cioè scrive qualcosa sullo schermo e nel nostro caso quello che noi vogliamo scrivere è il saluto in inglese ciao mondo hello world. I punti e virgola vengono utilizzati in quasi tutti i linguaggi di programmazione per separare le diverse istruzioni. Abbiamo terminato il nostro programma adesso possiamo avviarlo per poter avviare il programma dobbiamo cliccare su run run as java application stiamo dicendo esegui il programma come un'applicazione java. Possiamo vedere in uscita che apparirà la scritta ciao mondo hello world. Quindi cosa abbiamo visto nella lezione di oggi? Abbiamo visto come creare un progetto eclipse come creare una classe java che cosa è il metodo main e come stampare una semplice scritta. Bravissimo hai realizzato il tuo primo programma java per oggi abbiamo visto abbastanza continueremo nel prossimo video. Hey fermo qui il video che hai appena visto ti è piaciuto? Beh devi sapere che fa parte di un corso più grande un corso completo dedicato sia a chi vuole trovare lavoro rapidamente sia a chi vuole diventare un professionista. Ti lascio il link in descrizione così puoi ottenere tutte le informazioni che ti servono. Buona programmazione e che java sia con te!